Ciao a tutti quanti, ho scelto questa location importante perché avevo da comunicarvi una cosa molto importante e come vi ho anticipato qualche giorno fa i miei progetti musicali non hanno terminato la loro corsa anzi stanno proseguendo il loro cammino e proprio nel mese di giugno gireremo il mio prossimo videoclip il videoclip di Giusto il tempo di perdonarti che è anche una delle canzoni del mio album L'ora dei fantasmi questo progetto è prodotto da Alessandro Michisanti che è anche l'autore della canzone insieme a Luca Bignardi e dalla Raya Visual Art di Roma che invece ne curerà la produzione artistica Simona Mondello che ho incontrato qualche settimana fa e anche la regista del mio video ci ha proposto una tematica, un racconto, un'immagine di una tematica molto importante che è appunto la tematica del perdono affinché questo videoclip possa appartenere un pezzettino ad ognuno di voi come la mia musica ha sempre fatto in questi anni in cui mi avete affiancato in questa avventura abbiamo deciso di lanciare questa campagna di crowdfunding per chiedermi un piccolo piccolissimo contributo affinché questo sogno possa continuare il proprio cammino e possiamo raggiungere il nostro scopo che è quello di realizzare il video ovviamente sono qui anche a chiedervi di venirci a trovare mi farebbe un sacco piacere rivedervi tutti quanti durante le riprese del mio videoclip che si terrà a Roma appunto alla fine di giugno e mi auguro che questo abbraccio virtuale che vi invio possa presto tramutarsi in realtà per tutte le modalità potete leggere qualsiasi informazione su questa pagina io intanto vi mando un bacione grande grande dal mio campo di grano e vi stringo forte Grazie a tutti